43-29, troppo poco ambra o troppo colzato? Il bifario può essere questo, può essere qualcosa meno, però per i valori in campo, per i tentatori che c'erano, in fondo è giusto così, noi abbiamo avuto due infortuni molto importanti durante la settimana, uno dei Carmignani dopo due minuti dell'inizio della partita, eravamo veramente un po' rimaneggiati, quindi anche pensando alle prossime partite che verranno, si è dovuto girare, quindi sta, Mazzano è una squadra molto ben apprezzata. Nonostante tutto rimanete tra le otto migliori d'Italia anche quest'anno, vi confermate tra le migliori formazioni del campionato? Ma quello è un motivo di orgoglio per noi, aver fatto bene in questi ultimi tre, quattro, cinque anni, adesso non è stato bene, è comunque sia un grosso motivo di orgoglio, a prescindere poi da come vanno le finale, l'anno scorso è andata bene, quest'anno è andata meno bene, però è comunque sempre bello esserci.